La capacità di intendere il mondo attraverso l'arte. Si intitola così la mostra di Ilenia Paladino e Freddi Luciani, patrocinata dall'assessorato alla cultura e al turismo del comune di Termoli. Al Castello Svevo le opere dei due artisti che vogliono raccontare la natura, l'anima, le contraddizioni e le fragilità dell'umanità. L'arte è un viaggio introspettivo, ma è anche il linguaggio globale, comunicazione, chi parla di anima e di natura ha una grande responsabilità. Sembra un ritornello ripetitivo e fastidioso questo mio dipingere la natura, ma è importante. E proprio nonostante tutto il mondo dell'arte e della cultura si sia mobilitato per migliorare la questione ambientale, assistiamo sempre ai grandi scempi. Qui abbiamo questa mini rappresentazione nella quale noi abbiamo uno spicchio di mare, quindi con un'onda nera di petrolio che chiaramente, magicamente, si trasformerà in oro. Quindi oro nero inquinamento. Qui abbiamo ancora un esempio dell'umanità che si immerge nella natura serenamente, con umiltà, poiché questa odierna società tecnologica e ben venga il progresso, troppo spesso la sporca, la deturpa, la nienta, la inquina e criminosamente la incendia nell'ultimo decennio. E tratto anche il tema dell'amore, delle differenze caratteriali, però c'è sempre un'onda di energia che fa andare oltre gli ostacoli. Con la mia pennellata colorata cerco di regalare delle emozioni e di toccare il cuore dell'osservatore. In mostra c'è anche il quadro di legna a paradino che nell'ultimo anno e mezzo è stato esposto alla Galleria di Firenze, alla prestigiosa Biennale di Milano, a Londra, a Berlino, al Louvre di Parigi e a Bruxelles. Selezionato nel prossimo libro di Sgarbi, a marzo 2024, verrà proiettato sui palazzi di New York per due settimane. La mia pittura predilige il corpo e il volto femminile, dove rappresenta l'umanità che si immerge nella natura in senso metaforico per rinascere.